Era andato in fabbrica di domenica mattina per controllare il tetto, per verificare se avesse riportato danni dopo la nevicata dei giorni scorsi, Gianni Collalongo, l'operaio di 47 anni, morto dopo un volo di 10 metri nello stabilimento Lomet di Loreto del gruppo Ragaini, dove si producono termosifoni. L'operaio originario di Chieti, separato con due figli adolescenti ma da tempo domiciliato a Porto Recanati, dove viveva con una nuova compagna, era una sorta di uomo di fiducia in azienda, aveva anche le chiavi della fabbrica. La neve domenica non c'era sul tetto, ma la copertura in Ethernet, inzuppata d'acqua, ha ceduto appena l'uomo ha calpestato la struttura. L'operaio è morto per il politrauma da caduta dopo un volo di 10 metri. A far scattare le ricerche, domenica sera, erano stati familiari i datori di lavoro che in vano per tutto il giorno avevano tentato di contattarlo al telefono. Poi, nella notte tra domenica e lunedì, verso le 2, l'atroce è scoperta in fabbrica da parte dei carabinieri di Loreto. In mattinata c'è stato il riconoscimento della salma da parte dei figli. Non è prevista l'autopsia, poiché la dinamica appare tristemente chiara. Da valutare, invece, se Colalongo si sia recato sul posto di lavoro fuori dall'orario di sua spontanea volontà o se piuttosto siano stati superiori a chiederglielo. Sarà questo l'aspetto da valutare con le verifiche in corso da parte dei carabinieri di Loreto e Osimo, guidati dal capitano Conforti per l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica. In mattinata in fabbrica è stata indetta un'ora di sciopero, dice Danilo Capogrossi della Fimcisla. Poi la direzione ha fatto tornare gli operai a casa. Richiamare l'attenzione sui problemi legati alla sicurezza, che in questa azienda spesso sono stati oggetto di trattativa, dicono le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, in un comunicato.